Buongiorno e benvenuti a questa diretta il 24 settembre della Zuppa di Porro. La cosa che oggi è stata più interessante, secondo me, dal punto di vista editoriale è l'articolo di Ernesto Galli della Loggia, si chiama Ernesto, sì, che io spesso critico, come voi ben sapete, però oggi sul Corriere della Sera lui parte da un assunto. Se la maggioranza di italiani è contro lo Iussoli, che è un assunto che forse quando si parla di populismi bisognerebbe sempre tenere a mente, almeno questo abito mentale che oggi Galli della Loggia ha, quando si parla di populismo appunto bisognerebbe tenerne conto, mi ripeto oggi come un rintronato, però la sostanza è, perché la maggior parte degli italiani è contro lo Iussoli? Dice, ci possono essere tre motivi, gli italiani sono stati male informati, quindi colpa nostra dei media che fanno sempre il proprio mestiere malfatto, due, i media sono tutti a favore dello Iussoli, tranne poche eccezioni, secondo aspetto, gli italiani sono diventati dei razzisti, e anche su questo io tenderei, io non Galli della Loggia, a escluderlo. Terzo elemento, la legge presenta delle aree molto discutibili, allora, Galli della Loggia, su questi tre elementi, gli italiani sono stati male informati, gli italiani sono diventati razzisti, la legge ha delle aree sbagliate, Galli della Loggia pensa che ha delle aree sbagliate questa legge, viva Dio, Galli della Loggia pensa che la legge, insomma, non come noi pensiamo che faccia schifo, ma che ci sono delle aree che sono sbagliate. Ma lui dice una cosa fondamentale, dice, noi trattiamo lo Iussori e lo Iussculture come un fenomeno individuale, sapete quanto io sia individualista, ma lui dice, in realtà, questi fenomeni, anche perché riguardano 800.000 persone, riguardo io in un colpo solo, sono fenomeni sociali, cioè, ci sono degli elementi culturali, dice lui, in una frase per cui, se l'avessimo detto noi verremmo impiccati a calci nel sedere, nella pubblica piazza, Magari della Loggia dice, ci sarà una differenza tra un immigrato che viene dal Congo e un immigrato che viene dal Peru, no? Oppure, poteva dire, tra un islamico e un cristiano, aggiungo io, certo che c'è una differenza, soltanto nella testa bacata di chi fa le leggi non ci sono le differenze di cultura, di tradizione, di vicinanza culturale all'Occidente. E allora, dice Galli della Loggia, se ci sono queste differenze culturali, bisogna cercare di capire che questa legge non va bene, perché mette tutti quanti insieme e considera tutti quanti uguali. Posto che le differenze non si possono fare, cerchiamo di evitare che si faccia questa legge così mal fatta. Io sottoscrivo al 100% quello che dice Galli della Loggia, oggi da leggere. Vedete, in queste ore, mentre noi siamo qua con i vostri apprezzamenti, che ringrazio, e spero che molti di voi, come sempre, condividano questo video, perché negli ultimi giorni siete stati un po' lazy, cioè ho visto meno visualizzazioni del solito, quindi forse sono diventato io più noioso, mettendomi nei panni di Galli della Loggia se c'è qualcosa che sbaglia in chi fa le leggi e non in quelli che ti seguono. Però una cosa ve la devo dire, che è molto tecnica, ma che mi fa venire il sangue al cervello. Si chiama spesometro. Spesometro è una rottura di palle che noi professionisti dobbiamo fare e per noi commercialisti devono fare, inviando le nostre spese, ve la faccio semplice, all'Agenzia delle Entrate. Va bene? Noi dobbiamo inviare quello che spendiamo all'Agenzia delle Entrate. Quando noi dicevamo, attenzione, il grande fratello, tutto per evitare l'evasione fiscale. Va bene? Però noi inviamo le spese. Questi cornuti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno le corna, avete presente le corna, queste corna qua, così, ma peggio delle corna, sapete cosa hanno fatto? E questa è la notizia che oggi, salso le 24 ore, hanno chiuso per manutenzione il sito al quale noi dovevamo mandare i nostri relazioni di spesometro. Cioè, noi dobbiamo sempre farci il culo. Loro lo mettono in manutenzione perché c'erano degli errori. Allora, uno può dire, lo spesometro è semestrale del 2017, mi sta dicendo, ma il problema non è tanto, e non solo l'inefficienza tecnologica della pubblica amministrazione, dell'Agenzia delle Entrate, che hanno chiuso il sito. Va bene? Ci sono moduli alternativi per mandare lo spesometro. Ma sapete perché l'hanno chiuso, stimo? Sentite bene, anche se siete delle donne di 85 anni e non avete più lo spesometro, anche se siete bambini di 20 e non avete ancora un lavoro, ma dovete sapere perché è stato chiuso il sito dello spesometro, non perché in manutenzione, ma perché cosa è successo nell'ultima settimana dove i giornali non lo scrivono, c'è scritto soltanto in qualche riga il Sole 24 Ore ed Italia Oggi. È successo che voi mandavate la vostra comunicazione, però una volta che erano entrate come commercialisti all'interno di questa gabbia dell'Agenzia dell'Entrata, mettendo un codice fiscale, cioè il mio codice fiscale o quello di Tizio, di Caio, che è facilmente rintracciabile, di un signore a voi sconosciuto, potevate vedere tutte le spese che aveva fatto quello sconosciuto. No, non so se avete capito. Io entro nello spesometro per inviare il mio spesometro, ma sono magari un po' truffaldino, un po' curioso, metto il codice fiscale in una maschera di una terza persona che non c'entra nulla con me, vedo tutte le sue spese. Avete capito? Vedo tutte le sue spese. Vi sembra a voi questo un paese civile? Un paese che ci rompe le palle, dice che c'è la privacy, devo firmare i cookies, questa rottura di coglioni dei cookies che devo fare i cookies qua su internet, che cosa vorrà dire? Lo so, ogni volta accetto, accetto. C'è qualcuno che non accetta i cookies perché c'è la legge europea. Devo firmare i fogli sulla privacy e poi quando vado a dare lo spesometro all'Agenzia delle Entrate posso vedere le spese, lo posso aver fatto fino a una settimana, fino a due giorni fa, di tutti quanti gli altri. Vabbè, è una cosa da pazzi. A proposito di trucchetti, oggi i giornali dicono che il debito pubblico nel 2017 diminuirà. Io vi dico soltanto una cosa, anche questo è un trucco. Tre carte, tre carte. Sapete perché diminuisce forse dal 132% del 2016 al 131,6% del 2017? Che comunque è meglio di nulla, perché quando una tendenza è così inizia a fare anche se è poco così non è un disagio. Meglio di niente. Ma sapete perché diminuisce? Non tanto perché è aumentata la crescita italiana all'1,5%, che è un dato positivo. Ma sapete perché? Perché abbiamo fatto una rivisitazione, cioè sono stati cambiati i criteri con cui cresce il PIL e quindi abbiamo cambiato i criteri della crescita del PIL dal 2015 ad oggi. Cioè un dato contabile, un altro trucchettino, cioè dal 2015 al 2000 ad oggi abbiamo fatto una revisione della crescita dello 0,5%. Quindi il debito apparentemente diminuisce solo perché gli statistici hanno cambiato le formulette con cui si calcola il rapporto debito-PIL. Va bene? Lo so, è molto complicato, ma comunque si tratta di una truffa, un'altra truffa. Nella riduzione debito-PIL ce lo spiega oggi Fubini sul Corriere della Sera. Ad esempio c'è uno 0,2%, certo la riduzione del debito-PIL è dello 0,4%, diciamo la metà di questa riduzione che avremo del debito è 0,2% da privatizzazioni. Ma Fubini si chiede, ovviamente è soltanto una riga nel pezzo, ma non le abbiamo fatte nel 2017 le privatizzazioni? Come cacchio fate a dire che lo 0,2% del debito diminuisce per le privatizzazioni se le privatizzazioni non le abbiamo fatte? Evidentemente nei prossimi due mesi faremo delle privatizzazioni. E sapete come sono le privatizzazioni in Italia? Si prende l'ENI, la cui quota è del tesoro, e la si dà alla CDP, la cui quota è sempre più o meno del tesoro. E questa è la privatizzazione in Italia. Lo so, molto economia. Vi siete suicidando? Io allora vi faccio suicidare con le dichiarazioni di Sibilia, oggi intervistato dal Corriere della Sera. Sibilia, il numero uno ormai del Movimento 5 Stelle, scusatemi, è Di Maio, diventerà Premier, ieri è stato consagrato dal Primarie, e oggi Sibilia dice, Sibilia, uomo, mi sembra che nel passato avesse messo in discussione l'arrivo dell'uomo sulla Luna, mi sembra di capire, ma Sibilia dice, il Movimento corre un grave rischio, scrive sul Corriere della Sera, sapete qual è il grave rischio del Movimento 5 Stelle? Il liderismo. Allora, porca miseria. Sibilia, il problema del Movimento 5 Stelle è il liderismo, perché viene eletto Di Maio e tu non sei d'accordo all'elezione di Maio e non ti sei candidato come scrivi nella tua intervista perché avresti perso. E il problema del Movimento è il liderismo, perché quando c'era Casaleggio, senior, il problema non era il liderismo. Quando c'era Beppe Grillo il problema non era il liderismo. non è un problema che c'è sempre stato nel Movimento 5 Stelle, un po' come Berlusconi, come se io mi trovo domani che mi arriva la Gelmini o, non lo so, Gasparri e mi dicono il problema del Movimento di Forza Italia, sapete qual è? Il liderismo. E' certo che è il liderismo. E' sempre stato così quel partito, perché come è stato il Movimento 5 Stelle? E' ora si sveglia e sembra che sia il liderismo il problema del Movimento 5 Stelle. Questo Sibilia. Poi il resto, i giornali fanno tutta la polemica sul fatto che sono pochi ad aver votato le primarie, sul fatto che siano state hackerate, insomma, i giornali un po' rosicano sempre quando si parla del Movimento 5 Stelle. La cosa vera del Movimento 5 Stelle è che Grillo deve andare a fanculo e deve andare a fanculo perché ieri un'altra giornalista è stata pesantemente insultata di Rai News perché Grillo con il suo fanculo a tutti quanti e soprattutto dicendo che i giornalisti dovrebbero essere e lui li vuole mangiare per poi vomitare questo ha scritto e ha detto Grillo ieri un'ennesima giornalista che faceva il suo mestiere di Sky no scusatemi di Rai News 24 è stata insultata e non gli è stato permesso di fare il lavoro nel consesso del Movimento 5 Stelle. Complimenti ai democratici del Movimento 5 Stelle è soltanto come possiamo dire un piccolo assaggio del loro non liderismo del loro atteggiamento nei confronti di chi la pensa diversamente da loro. spariti i 33 milioni di sms è una cosa scandalosa oggi ci apre il fatto lo denuncia il sindaco di Amatrice e dello spesometro vi ho parlato l'ultima cosa riguarda l'intervista patetica di Chris Lehan che è il capo di Airbnb che ha fatto ricorso al Tar perché non gli si vuole far pagare delle tasse a Airbnb perché Airbnb non paga sostanzialmente le tasse sapete perché? Perché le paga in altri paesi del mondo e non in Italia questo Chris Lehan ex consigliere de Clinton gli avrà portato il caffè come tanti consiglieri di Clinton se non altro l'ex consigliere di Clinton perché quando sei consigliere di Clinton sei una specie di monumento e quindi fai a fare il capo di la sfiga vuole che vai a fare il capo di Airbnb in Italia allora loro non vogliono raccogliere le tasse cioè fare sostituti d'imposta per terzi cioè se io affitto il mio appartamento e lo affitto con Airbnb io non chiedo Airbnb di essere tassata perché non è ancora questo che si chiede Airbnb ma chiedo che Airbnb prenda il 21% della mia cedolare secca non lo vogliono fare e sapete cosa dice il consigliere di Clinton l'uomo dell'innovazione l'uomo che tu pensi arriva dalla Silicon Valley è un atto dovuto il nostro ricorso al TAR è un atto dovuto non è che parla come Mastella che io adoro ed è stato anche finalmente prosciolto parla come i nipoti di Mastella Chris Lehan siamo disposti a fare la nostra parte con responsabilità questi parlano come The Circle mi fanno vabbè siamo disposti a fare la nostra parte con responsabilità e allora pagate le tasse siamo disposti a fare la nostra parte con responsabilità pagate le tasse no? ci vuole tanto ci fate due palle così a noi che paghiamo il 60% delle tasse dobbiamo fare lo spesometro dobbiamo romperci le palle noi dobbiamo fare lo spesometro Airbnb che guadagna i miliardi è disponibile a fare la sua parte di responsabilità e quindi fa ricorso al TAR e quindi non paga le imposte non le fa pagare i suoi clienti guardate mi viene veramente il sangue al cervello e domenica fa male quindi vi auguro un'ottima domenica e sapete che cosa fare quando vabbè vabbè ciao ciao